carissimi pace pace del signore voi tutti una buona giornata dio vi benedica oggi leggiamo nell'epistola agli ebrei al capitolo 6 al verso 10 dove scritto dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi innanzitutto dio non è ingiusto e questo è importante che venga ribadito perché viviamo in un tempo in cui si tende a scaricare su dio la responsabilità del male che c'è nel mondo e di conseguenza si definisce dio come qualcuno di ingiusto in realtà il male che c'è nel mondo è una conseguenza di ciò che noi facciamo le guerre non le vuole il signore sono una conseguenza della sete di potere e dell'arroganza degli uomini i crimini efferati non li vuole il signore anzi egli li condanna sono una conseguenza della malvagità che c'è nel cuore dell'uomo eppure noi continuiamo ad addossare a dio le colpe un po siamo come ad amo che nel giardino di eden dopo aver mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male disse al signore sì ho mangiato ma darmelo è stato alla donna che tu signore mi hai messo a fianco sì noi tendiamo ad avere questo tipo di attitudine ma qui lo scrittore ribadisce che dio è giusto e noi vogliamo ribadire questa verità dio è giusto e saggio non sbaglia mai e in tutto quello che gli fa non c'è alcuna imperfezione anzi l'opera sua è perfetta e noi vogliamo ringraziarlo perché egli ha compiuto anche nella redenzione un'opera perfetta ed è per la sua per il suo grande amore che è dato il suo figlio gesù cristo affinché noi potessimo essere dichiarati giusti a nostra volta giustificati per fede abbiamo pace con dio per mezzo di gesù cristo nostro signore dio quindi è giusto ed egli non dimenticherà l'opera nostra e infatti è scritto che anche di un solo bicchiere che abbiamo dato un bicchiere di acqua che abbiamo dato a uno dei minimi dei suoi figli e gli ci darà la ricompensa e quando leggiamo nel capitolo 25 del vangelo di matteo gli uomini compariranno davanti al signore il signore gli dirà ebbi fame e mi deste da mangiare ebbi sete e mi deste da bere fui straniero e mi accoglieste fui nudo e mi vestiste fui ammalato e mi visitaste fui prigioniero e veniste a trovarmi e gli uomini diranno signore quando è che ti abbiamo fatto queste cose sempre lo stesso principio quando l'avete fatto a uno di questi minimi lo avete fatto a me e il fatto che egli poi lo ricordi lì nel cielo è una conferma di quanto abbiamo letto dio è giusto e si ricorderà di ogni opera che è stato compiuta in favore dei suoi santi e questa è la dimostrazione dell'amore che noi abbiamo per lui ed ecco perché nel servire il nostro prossimo noi stiamo servendo il signore e non ci dobbiamo scoraggiare se sembra che nessuno prezzi quello che noi facciamo o si ricordi del bene che abbiamo fatto perché il signore lo apprezza e il signore conserva il ricordo di ogni opera buona che è stata fatta per amore del suo nome e allora coraggio cari nella gracia coraggio serviamo il signore serviamolo con gioia perché il nome di dio è un nome degno di essere servito e come cristiani vogliamo essere grati di aver trovato un dio così buono che non si dimentica di quello che noi facciamo per amore suo e che ci sa ricompensare in modo adeguato anzi oltre ogni misura quando ci fu il diluvio sulla faccia della terra troviamo scritto che dio si ricordò di no è di tutti gli animali di tutto il bestiamo che era con lui nell'arca e dio fece passare un vento sulla terra e le acque si calmarano sembrava dopo tutti quei giorni che dio si fosse dimenticato di questo uomo fedele giusto invece dio si ricordò di no è e così dio si ricorda di tutti coloro che lo amano che lo temono delle volte il tempo passa ma solo perché dio ha un piano particolare che vuole portare a compimento in un arco di tempo che è diverso da quello che noi magari avevamo pensato nel cuore nostro e ancora riguardo ad abramo è scritto che quando egli venne distrusse la città di sodomo e di comorra dio si ricordò di abramo e fece scampare per amore di abramo anche lot suo nipote dal disastro che si stava per manifestare e infine come dimenticare i versi bellissimi scritti in isaia dove il profeta sospinto dallo spirito santo afferma una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere anche se le marri dimenticassero non io dimenticherò te ecco io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani e le tue mura mi stanno sempre davanti agli occhi ed è bella questa figura perché anticamente quando una persona faceva un lungo viaggio non essendoci come oggi delle foto che potessero essere guardate per ricordare il volto il sembiante della persona amata che si lasciava solitamente si scolpiva cioè si faceva una sorta di ritratto sulla mano della persona cara in modo tale che durante il viaggio nel periodo di lontananza si potesse guardare a lei si potesse accendere il ricordo di quella persona e il fatto che dio abbia scolpito ognuno di noi sulle sue mani e un antroponfismo capite bene è qualcosa che ci evidenzia il fatto che egli non si dimenticherà mai di noi e allora fratelli sorelle dio non è ingiusto anzi egli è giusto ed egli si ricorderà di ogni opera buona che noi abbiamo fatto verso i suoi figli e nel giorno in cui compariremo dinanzi al suo tribunale egli ce ne darà la ricompensa e il nostro cuore si rallegrerà e allora diremo è valsa la pena servire il signore perché egli non solo ci ha redenti ma addirittura ci sta premiando nonostante noi non meritassimo nulla facciamo il bene cari facciamolo a tutti le persone anche a coloro che ci fanno del male non ce ne pentiremo che la grazia la pace l'amore la presenza di dio e la sua benedizione di monio su di noi ancora oggi Dio ci benedica insieme